Cari amici, ben trovati. Nella puntata di oggi parliamo di prato. E sì, perché seminare un prato da zero può rivelarsi un momento delicato, ma se seguirete i miei consigli potrete ottenere in tempi rapidi un prato davvero coi finchi. Propedeutica, la semina è una buona lavorazione del terreno. In seguito sarà necessario provvedere a sminuzzare le zolle con una zappatrice, a spianare con un rastrello a denti rigidi e a livellare l'intera area. La concimazione di fondo è anche molto importante. Vi suggerisco di seguire sempre attentamente le istruzioni che trovate su retro delle confezioni e di operare in giornate serene e senza vento. Se non siete molto esperti, una seminatrice a spinta può aiutarvi per evitare di ottenere un prato a macchie, ma anche miscelare una pari quantità di seme con terriccio fa la differenza. Non tutti i terricci però vanno bene. Io vi consiglio di acquistare Belprato, il terriccio di tercomposti, che ha selezionato per voi una miscela di torbe e fili e sabbia silicea, che lo rendono ideale per la realizzazione di nuovi prati e la rigenerazione di quelli esistenti. E poi addizionato con sostanze proteiche che migliorano l'accessimento, la brillantezza e la colorazione dei fili d'erba e riduce la presenza di muschio. Buon giardinaggio e un abbraccio verdissimo!